Musica Musica E' tutto pronto appena ha cominciato il match tra i ragazzi del Brasile Gli uomini della Nigeria di Capitano Checco Trinchillo Abbiamo questo match che emozioni ci regalerà Buon calcio a tutti Scotto prova ad andare Regale Poi Bruno ancora larga per Scotto a sinistra Che prova a caricare il mancino e una finta Palla per Sindaco Cambia tutto attenzione il destro di Grasso Palla fuori Prima occasione Simonetti prova ad andare Simonetti che azione Palla centrale per Trinchillo Che tacco illuminante per Barriale La parata I ragazzi del Brasile che si salvano Che risposta Da parte di Ferrigno Tre pezzini e bomberini a quattro Sono e bruno centralmente Il dribbling di Bruno Fa secco sarti Scontro fratricida in memoria dei vecchi tempi Vantaggio Brasile Pisa Ora Pisa Prova da centrale Come stai quest'anno? Tengo Tengo Arma Non sto a quarantini Sono a manziare che è in guinno per doccare Angolo Mamma mia Bruno che giocata Mariano nulla ha potuto Perchè attenzione simonetti questa volta sì dopo tante occasioni negli ultimi due minuti arriva il gol del pareggio della nigeria con simonetti 1 a 1 quindi già ti lascio immaginare facevo padre la gente con sei figli maschi attenzione il destro di simonetti doppietta per lui rimonta completata che partita per simonetti 2 a 1 pisa prova ad andare centralmente pisa a centrarsi adesso che con il piazzato di davide pisa che grandissimo gol della nigeria 3 a 1 marco io non te lo ricordo ancora non bazzicavi il torneo il nipote di ciro attenzione palla messa in mezzo e c'è grasso che dall'automancino con il destro riesce a battere sarti si rifanno sotto i ragazzi del brasile 3 a 2 in chilo manda al bar un paio di avversari poi si accentra pisa forte davide ancora 3 in chilo in chilo ci prova 4 a 2 secondo tempo 4 a 2 per la nigeria contro il brasile davvero una grandissima prestazione degli uomini quest'oggi eccessionalmente in maglia rossa vediamo questa difesa che emozioni ci regalerà già ufficiale fabio è contento tu sei contento che sono contento opinabile ancora bruno contro simonetti bruno un assist incredibile sprecato malamente da sindaco come di gianluca come faccio a me abbiamo fatto 4 4 arriva marci e ma squadra il fedelissimo nuovo e forte battaglia i classici con alla lui spalle alla porta un po di suola favore il fisico poi girata mancina nulla da fare dunque la nigeria si porta sul 5 a 2 ti è vero si 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 parlavamo di un'altra la scia venga in volontà che vuoi quello lo schiaffeggia proprio ma no pensi ci stavo dirlo non si tratta di domani a segnato perché ha fatto l'assistino si la palla s'ha andata da tutt'altra parte battaglia la parata di ferrigno siano battaglia non lo serve attenzione palla netta e allora liberato per bruno 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 sarti battaglia per tricchillo la ruletta quando l'asse funziona c'è poco da fare per gli avversari ancora nigeria seduto non ci sta qua di io sarà giù al bar che c'è il numero di adesso nemmeno in chilo assist per battaglia questa volta sì e c'è il gol del 7 a 2 gol di alex battaglia che consente alla nigeria di portarsi sul quintuplo vantaggio addirittura bruno non trova al reale bruno palla per sindaco che va a segnare il 7 a 3 e finisce qui con la vittoria della nigeria grande vittoria per gli uomini di rinchi no no no